Parte prima. L'antibiblioteca di Umberto Eco, ovvero come cerchiamo conferme. Umberto Eco appartiene a un raro genere di studiosi enciclopedici, perspicaci e per niente noiosi. Possiede un'ampia biblioteca personale, di 30.000 volumi, e classifica i visitatori di tali biblioteca in due categorie. Coloro che reagiscono dicendo, caspita professor Eco, che è biblioteca? Le ha letti tutti questi libri? È una piccola minoranza che capisce che una biblioteca personale non è un appendice del proprio io, ma uno strumento di ricerca. I libri non letti sono molto più preziosi di quelli letti. Una biblioteca dovrebbe contenere tutti i libri su argomenti sconosciuti, che i nostri mezzi finanziari, le rate del mutuo e le difficoltà del mercato immobiliare ci consentono di acquistare. Via via che avanziamo nell'età, accumuliamo più conoscenze e più libri. E i libri non letti, che ci guardano minacciosi dai scaffali, sono sempre più numerosi. Anzi, più si conosce e più si allungano gli scaffali dei libri non letti. Chiamiamo l'insieme di tali libri anti-biblioteca. Siamo portati a trattare la conoscenza come una proprietà privata, da proteggere e difendere. È un ornamento che ci permette di avanzare nell'ordine gerarchico. La tendenza, quindi, a offendere la sensibilità liberale di eco, concentrandosi su ciò che è conosciuto, è una propensione umana che si estende nelle nostre operazioni mentali. Le persone non vanno in giro con l'anticurriculum che descrivono ciò che non hanno studiato, o le esperienze che non hanno vissuto. Questo è un compito che spetta i loro concorrenti. Ma sarebbe bello se lo facessero. Oltre a capovolgere la logica della biblioteca, quindi, ci adopereremo per rivedere l'idea stessa di conoscenza. Si noti che il cigno nero nasce dalla nostra incomprensione della probabilità delle sorprese, di quei libri non letti, perché prendiamo un po' troppo sul serio ciò che conosciamo. Chiamiamo l'antistudioso, colui che si concentra sui libri non letti e cerca di non trattare la conoscenza come un tesoro, un bene o addirittura un strumento, per aumentare la propria autostima, empirista scettico. I capitoli di questa parte esaminano le modalità con cui noi esseri umani trattiamo la conoscenza. È la nostra predilezione per ciò che è aneddotico rispetto a ciò che è empirico. Nel capitolo 1 presenta il cigno nero come radicato nella storia della mia ossessione. Nel capitolo 3 traccio una distinzione fondamentale tra i due tipi di casualità. Nel capitolo 4 torno brevemente al problema del cigno nero, nella sua forma originale, ovvero la nostra propensione a generalizzare partendo da ciò che vediamo. In seguito presento i tre aspetti del problema del cigno nero. A. L'errore di conferma. Ovvero come tendiamo a disprezzare ingiustamente la parte vergine della biblioteca, ossia cercare ciò che conferma la nostra conoscenza e non la nostra ignoranza. B. La fallacia narrativa. Ovvero come ci inganniamo con storie e aneddoti. È il modo in cui le emozioni ostacolano la nostra inferenza. C. Il problema delle prove silenziose. C. Ovvero gli stratagemmi che la storia utilizza per celarci i cigni neri. C. Infine il capitolo 9 tratta l'errore fatale che consiste nel costruire la conoscenza a partire dal mondo dei giochi. Capitolo 1. L'apprendistato di uno scettico empirico. C. Questa non è un'autobiografia, quindi salterò le scene di guerra. C. In realtà le esalterei anche se si trattasse di un'opera autobiografica. C. Non posso competere con i film d'azione e le memorie di avventurei più navigati di me. C. E di conseguenza mi limiterò alle mie specialità, la probabilità e l'incertezza. C. Anatomia di un cigno nero Levantine avevano una natura mercantile. La gente faceva affari attenendosi a un chiaro protocollo che garantiva la pace necessaria al commercio e le comunità socializzavano tra loro. Questo millennio di pace fu interrotto solo da piccoli occasionali attriti all'interno della comunità musulmana e cristiana, raramente da scontri tra le due comunità. M. Mentre le città erano mercantili e in gran parte ellenistiche, le montagne erano abitate da varie minoranze religiose che sostenevano di essere sfuggite all'ortodossia bizantina e musulmana. Di solito le zone montuose sono un rifugio ideale per chi fugge dal pensiero dominante, a meno che il nemico non sia l'altro rifugiato che contende lo stesso terreno occidentato. Il mosaico di cultura e religione di una regione era considerato un esempio di coesistenza. Cristiani di tutti i tipi, maroniti, armeni, ortodossi bizantini, greco-siriani, addirittura cattolici bizantini, oltre che alcuni cattolici romani rimasti lì dal tempo delle crociate, musulmani, sciiti e sunniti, drusi e alcuni ebrei. Era dato per scontato che lì la gente imparasse ad essere tolerante. Ricordo che a scuola mi spiegavano che noi eravamo molto più civili e saggi delle comunità balcaniche, dove la gente non solo non si lavava, ma cadeva anche preda di lotte intestina. Sembrava esserci un equilibrio stabile derivato da una tendenza storica al miglioramento e alla tolleranza. Il termine equilibrio veniva utilizzato spesso. Entrambi i rami della mia famiglia provenivano dalle comunità greco-siriana, l'ultimo avamposto bizantino nella Siria del Nord, che comprendeva la regione oggi chiamata Libano. All'epoca i bizantini si facevano chiamare romani, romi, plurale rom, nelle lingue del posto. La mia famiglia era originaria della zona coltivata a Olivi e ai piedi del Monte Libano, che avevano conquistato dopo aver scacciato i cristiani maroniti sulle montagne nella battaglia di Amun, paese d'origine della mia famiglia. Dopo l'inversione araba del VII secolo, avevamo vissuto in pace commerciando con i musulmani e solo sporadicamente eravamo stati attaccati a cristiani maroniti libanesi che vivevano sulle montagne. Per qualche accordo bizantino, nel senso letterale del termine, stipulati tra sovanni arabi e imperatori bizantini, pagavamo le tasse e ricevevamo protezione da entrambe le parti. Riuscimmo quindi a vivere in pace per più di un millennio, evitando spargimenti di sangue. Il nostro ultimo problema non erano stati gli arabi musulmani, ma i crociati piantagrane. Gli arabi, che sembravano interessati solo alla guerra e alla poesia, e più tardi i turchi ottomani, che sembravano attratti solo dalla guerra e dallo svago, lasciarono a noi la poco interessante attività del commercio e quelle meno pericolose legate alla cultura, come la traduzione di testi aramaici e greci. Indubbiamente, il paese chiamato Libano, al quale fummo repentinamente annessi dopo la caduta dell'impero ottomano all'inizio del XX secolo, concepito in modo tale da avere una predominanza cristiana, si presentava come un paradiso di stabilità. La gente fu sottoposta a un lavaggio del cervello per farle credere che lo Stato-nazione fosse un'entità reale. È straordinario come si possa costruire una nazionalità in modo rapido ed efficace con una bandiera. Qualche discorso è un inno nazionale. Ancora oggi evito il termine libanese e preferisco quello meno riduttivo di Levantino. I cristiani si convinsero di essere all'origine e al centro di quella che veniva vagamente definita cultura occidentale, sia pure con un'apertura verso l'Oriente. Con un classico esempio di pensiero statico, nessuno prese in considerazione le differenze tra i tassi di natalità delle varie comunità. Si pensava che il paese sarebbe rimasto, per sempre, con una leggera maggioranza cristiana. Ai Levantini era stata concessa la cittadinanza romana che aveva permesso a San Paolo, un siriano, di viaggiare liberamente nel mondo antico. Le persone si sentivano in contatto con tutto ciò con cui per loro valeva la pena essere in contatto. Il paese era estremamente aperto al mondo e presentava uno stile di vita molto sofisticato, un'economia prospera e un clima temperato simile a quello della California, con montagne coperte di neve che si affacciavano sul Mediterraneo. La nuova nazione attirò spie, sia sovietiche che occidentali, prostitute, bionde, scrittori, poeti, spacciatori, avventurieri, giocatori d'azzardo compulsivi, tennisti, genti in doposcie e mercanti, tutte figure complementari l'uno all'altra. Molti si comportavano come se fossero sul set di un vecchio film di 007, all'epoca in cui i playboy fumavano, bevevano e invece di andare in palestra coltivavano relazioni con i migliori sarti. Il paese possedeva la caratteristica principale del paradiso. Si diceva che i tassisti fossero gentili, anche se, per quanto mi ricordo, con me non lo erano affatto. È vero, con il seno di poi, che nella memoria collettiva del paese può apparire più paradisiaco di quello che non fosse in realtà. Io ero troppo giovane per godere i piaceri di offerti dal luogo. Divenni un idealista ribelle e ben presto sviluppai un gusto ascetico contrario all'ostentazione della ricchezza, allergico alla palese ricerca del lusso della cultura levantina e alla sua ossessione per il denaro. Quando ero adolescente, non vedevo l'ora di andare a vivere in una metropoli con meno tipi alla James Bond, ma ricordo che c'era qualcosa di speciale in atmosfera intellettuale. Frequentavo il liceo francese che aveva uno dei migliori tassi di successo per il baccalauréat, il diploma di scuola superiore. Anche rispetto all'insegnamento del francese, in Libano si parlava un francese piuttosto puro, come nella Russia pre-rivoluzionaria. I ceti elevati dai cristiani levantini e degli ebrei da Istanbul ad Alessandria parlavano e scrivevano utilizzando il francese formale per distinguersi. I più privilegiati venivano mandati a studiare in Francia, come entrambi i miei nonni, quello paterno nel 1912 e il padre di mia madre nel 1929. Per lo stesso istinto di distinzione linguistica, 2000 anni prima, i levantini snob scrivevano in greco, non nell'aramaico del luogo. Il Nuovo Testamento fu scritto nel cattivo greco parlato dai nobili di Antiochia, la capitale, spingendo Nice ad affermare che Dio parlava un pessimo greco. Dopo il declino dell'ellinismo si iniziò a parlare arabo, oltre a essere ritenuto un paradiso, quindi, il paese era considerato un incrocio miracoloso di quelle che vengono superficialmente denominate cultura orientale e cultura occidentale. Arrivare fino in fondo. Il mio ethos si formò quando, a 15 anni, fu incarcerato con l'accusa di aver colpito un poliziotto con un calcinaccio durante una rivoluzione studentesca. Un incidente con strane ramificazioni, dato che il ministro dell'interno, che firmò l'ordine di soffocare la rivolta, era mio nonno. Uno dei dimostranti fu ucciso da un poliziotto che, dopo essere stato colpito alla testa da una pietra, si agitò e iniziò a sparare a caso contro di noi. Io ero al centro della rivolta e quando fui catturato provai una grande soddisfazione, al contrario dei miei amici che avevano paura della prigione dei genitori. Spaventammi il governo a tal punto che ci fu concessa l'amnistia. C'erano vantaggi evidenti nel mostrare di essere in grado di agire in base alle proprie convinzioni, senza accettare compromessi per un timore di offendere o dare fastidio agli altri. Ero in collera e non mi interessava quello che pensavano i miei genitori e il mio nonno. Questo li portava ad avere paura di me, quindi non potevo dare segni di debolezza e tantomeno fare marcia indietro. Se invece di ribellarmi apertamente avessi nascosto la mia partecipazione alla rivolta, come fecero molti miei amici, e fossi stato scoperto, sono certo che sarei stato trattato come una peccola nera. Una cosa è mostrare un atteggiamento superficialmente ribelle all'autorità vestendosi in modo anticonformista, utilizzando quelli che i scienziati e gli economisti chiamano segnali deboli. Un'altra è mostrare la volontà di mettere in pratica le proprie idee. Mio zio paterno non era tanto infastidito dalle mie le politiche che vanno e vengono quanto dal fatto che l'usassi come pretesto per vestirmi in modo trassandato. Per lui l'ineleganza di un membro della famiglia era un'offesa mortale. Dalla notizia del mio arresto trassi un altro importante beneficio. Potei evitare di utilizzare i soliti segnali esteriori di ribellione adolescenziale. Scoprì che è molto più efficace comportarsi bene e in modo ragionevole se si mostra di voler andare al di là delle parole. Potete permetterevi di essere compassionevoli indulgenti e gentili se una volta ogni tanto quando gli altri meno se l'aspettano ma la situazione lo giustifica fate causa a qualcuno o attaccate con violenza un nemico solo per far vedere che siete capaci di arrivare fino in fondo. Paradiso svanito bastarano alcuni spari e alcuni colpi di mortaio per far svanire all'improvviso il paradiso livanese. Pochi mesi dopo la mia incarcerazione dopo quasi 13 secoli di straordinaria coesistenza etnica un cigno nero sbucato dal nulla trasformò il paradiso in un inferno. Scoppiò una feroce guerra civile tra i cristiani da un lato e i musulmani e i rifugiati palestinesi dall'altro. Gli scontri furono brutali in quanto ebbero luogo nel centro della città e nelle zone residenziali la mia scuola si trovava a poche centinaia di metri dalla zona di guerra. Il conflitto durò più di 15 anni forse l'invenzione di potenti armi da fuoco trasformò quella che nell'età della spada sarebbe stata solo un'atmosfera di tensione in una spirale di incontrollabili azioni di guerra ispirata alla legge del taglione. Oltre alla distruzione fisica alla quale si rimediò facilmente grazie ad appaltatori motivati politici corrotti esitori ingenui la guerra rimosse quasi completamente quella patina di ricercatezza che per 3.000 anni aveva fatto delle città levantine un costante centro di raffinatezza intellettuale. L'esodo dei cristiani che era iniziato ai tempi degli ottomani coloro che erano emigrati in occidente avevano preso nomi occidentali e si erano integrati accelerò e il numero di persone colte nel paese si ridusse drasticamente. All'improvviso la nazione si svuotò è difficile trovare un rimedio alla fuga dei cervelli quindi parte dell'antica raffinatezza intellettuale potrebbe essere andata persa per sempre. La notte stellata la prossima volta che ci sarà un blackout consolata ricordando il cielo vi sembrerà irriconoscibile. Durante la guerra a Beirut veniva spesso a mancare elettricità e prima che la gente iniziasse a comprare generatori nella parte della città più lontana dalla zona dei combattimenti il cielo di notte era limpido data la mancanza di inquinamento luminoso. Private dalla televisione le persone andavano a vedere le luci delle battaglie notturne sembrava che preferissero correre il rischio di essere colpite da un mortaio piuttosto che trascorrere una serata noiosa. Si vedevano benissimo le stelle al liceo mi avevano detto che i peneti erano una sorta di equilibrio e che quindi non dovevamo temere che le luci ci colpissero inaspettatamente questo mi ricordava in modo inquietante i discorsi sull'eccezionale stabilità storica del Libano. L'idea stessa di un presunto equilibrio mi nervosiva guardavo le costellazioni in cielo e non sapevo a che cosa credere la storia è la trigade dell'opacità la storia è opaca si vedono i risultati ma non il copione che produce gli eventi il generatore della storia nella nostra comprensione degli eventi vi è un'incompletenza sostanziale poiché non sappiamo cosa ci sia dentro la scatola come funzioni il meccanismo quello che chiamo generatore degli eventi storici è distinto dagli eventi in sé così come la mente degli dèi non può essere compresa osservando le loro azioni sarebbe molto facile fraintendere le loro azioni questa distinzione è simile alla differenza tra il cibo che viene servito a tavola e ciò che avviene nelle cucine di un ristorante l'ultima volta che ho mangiato in un ristorante cinese in Canal Street a Manhattan ho visto un topo uscire dalla cucina quando la mente umana entra in contatto con la storia soffre di tre disturbi ossia di quella che chiamo triade dell'opacità i disturbi sono i seguenti uno l'illusione della comprensione ossia il fatto che ognuno di noi crede di sapere come stanno le cose in un mondo che è molto più complicato o casuale di quello che pensiamo 2 la distorsione retrospettiva ossia il fatto che possiamo valutare le cose solo dopo che sono avvenute come se le vedessimo in uno specchietto retrovisore la storia sembra più chiara e organizzata nei libri di storia che nella realtà empirica 3 la sopravvalutazione delle informazioni fattuali e l'handicap delle persone autorevoli e colte in particolare quando creano categorie quando platonizzano nessuno sa come stanno le cose il primo elemento della triade è la patologia di chi pensa che il mondo in cui viviamo sia più comprensibile più spiegabile e quindi più prevedibile di quanto non sia effettivamente gli edultimi dicevano sempre che la guerra che finì per durare quasi 17 anni sarebbe finita in pochi giorni sembravano piuttosto sicuri della loro previsione come dimostrava il numero di persone che rimanevano in stanze d'albergo e in altre abitazioni temporanee a Cipro in Grecia in Francia e altrove ad aspettare che la guerra finisse un mio zio continuava a raccontarmi che quando i ricchi palestinesi si erano trasferiti in Libano circa 30 anni prima quella soluzione veniva considerata del tutto temporanea 60 anni dopo i sopravvissuti di quella ondata vivono ancora lì tuttavia quando gli chiesi se sarebbe successo la stessa cosa con la nostra guerra mi rispose no certo che no questo paese è diverso è sempre stato diverso per qualche strana ragione quello che mio zio vedeva negli altri non sembrava applicabile a lui stesso questa cecità alla durata è una malattia molto diffusa tra gli esoli di mezza età più tardi quando decisi di evitare l'ossessione degli emigrati per le loro radici che penetrano troppo a fondo nella loro personalità studiare la letteratura sull'esilio proprio per evitare le trappole di una nostalgia allogorante e ossessiva quegli esoli sembravano prigionieri dei ricordi delle loro origini di Liache si sedevano con altri prigionieri del passato parlavano del loro vecchio paese mangiavano il loro cibo tradizionale mentre in sottofondo suonavano musiche della loro terra continuavano a fare simulazioni mentali creando scenari alternativi che avrebbero potuto evitare quelle spaccature storiche per esempio se lo Shah non avesse scelto come primo ministro quell'incompetente saremmo ancora nel nostro paese dal loro punto di vista la loro storia aveva una causa specifica ed erano convinti che la catastrofe sarebbe stata evitata rimuovendo tale causa parlavo con tutti gli esuli che riuscivo a trovare per sapere come vivevano nel loro esilio quasi tutti si comportavano nello stesso modo si sentono spesso storie di rifugiati cubani che negli anni 60 dopo l'avvento del regime di Castro si trasferirono solo per pochi giorni a Miami con le valigie mezze vuote o di profughi iraniani a Parigi e a Londra che fuggirono dalla Repubblica Islamica nel 1979 pensando di andarsene per un breve periodo a distanza di oltre un quarto di secolo alcuni stanno ancora aspettando di tornare al loro paese molti russi che emigrarono nel 1917 come lo scrittore Vladimir Nabakov si stabilirono a Berlino forse perché da lì potevano tornare velocemente in patria lo stesso Nabakov visse per tutta la vita in abitazioni temporanee a volte indigenti altre volte russuose e morì al Palazzo Tè di Montreux sulle sponde del lago di Ginevra la storia non striscia salta quando in seguito ripercorsi i fatti della guerra mentre elaboravo la mia idea sulle percezioni degli eventi casuali ebbi la netta impressione che la nostra mente sia una magnifica macchina da spiegazione capace di trovare un senso quasi ovunque di scogitare giustificazioni per ogni tipo di fenomeno ma generalmente incapace di accettare l'idea dell'imprevedibilità questi eventi erano inspiegabili tuttavia persone intelligenti pensavano di essere in grado di fornire spiegazioni convincenti a posteriori e più le persone erano intelligenti più la spiegazione sembrava calzante la cosa più preoccupante è che tutte queste convinzioni e queste ricostruzioni sembrano logicamente coerenti e previ di contraddizioni data la situazione dall'adolescente lasciai il Libano ma tornai spesso a trovare molti parenti e amici che erano rimasti nel paese soprattutto durante il conflitto la guerra non fu continua vi furono periodi di combattimento interrotti da soluzioni permanenti nei momenti difficili mi sentivo più vicino alle mie radici e avvertivo la necessità di tornare per dare sostegno a coloro che erano rimasti e che spesso si sentivano demoralizzati dalle partenze e invidiosi degli amici più fortunati che potevano andare alla ricerca di una sicurezza economica e personale e tornavano in vacanza in Libano solo durante le sporadiche tregue quando non ero in Libano non riuscivo a lavorare né a leggere perché lì la gente moriva ma paradossalmente quando ero in Libano ero meno toccato dagli eventi e riuscivo a coltivare i miei interessi intellettuali senza provare senza scesi colpa stranamente durante la guerra la gente organizzava molte feste e il gusto per lo sforzo aumentò il che rendeva le mie visite piuttosto piacevoli nonostante i combattimenti c'erano alcune domande difficili come si poteva prevedere che da un momento all'altro un popolo che sembrava un modello di tolleranza si sarebbe trasformato in un'onda di barbari perché il cambiamento era stato così netto all'inizio pensavo che forse la guerra libanese era davvero impossibile da prevedere a differenza di altri conflitti e che i levantini erano una razza troppo complicata poi quando inizia a prendere in considerazione tutti i grandi eventi della storia pian piano capì che la loro irregolarità non era una caratteristica locale il levante ha prodotto moltissimi eventi di grande importanza che nessuno aveva previsto chi aveva previsto l'ascesa del cristianesimo come religione dominante nel bacino del mediterraneo e poi in tutto il mondo i cronisti romani del tempo non fecero neanche un accenno alla nuova religione gli storici del cristianesimo sono stupiti dell'assenza di menzioni da parte dei contemporanei a quanto pare pochi personaggi di rilievo presero le idee di un ebreo apparentemente eretico abbastanza sul serio da pensare che avrebbe lasciato traccia di sé ai posteri esiste un solo riferimento dell'epoca Gesù di Nazareth nella guerra giudaica di Flavio Giuseppe che però potrebbe essere stato aggiunto successivamente da un copista devoto e che dire della religione concorrente che nacque sette secoli dopo chi poteva prevedere che in pochi anni un gruppo di cavalieri sarebbe riuscito a espandere il proprio impero e a diffondere la legge islamica dal subcontinente indiano alla Spagna e ancora di più dell'avvento del cristianesimo la diffusione dell'islam fu del tutto imprevedibile molti storici sono stupefatti della rapidità del cambiamento George Dabi per esempio ha espresso la sua sorpresa per la velocità con cui quasi dieci secoli di ellenismo levantino furono spazzati via da un colpo di spada un altro storico anche di membro del Collège de France Paul Vane ha parlato giustamente di religioni che si diffusero come best seller un paragone che indica imprevedibilità questo tipo di discontinuità nella cronologia degli eventi non facilita il lavoro degli storici l'esame scrupoloso del passato non ci dice molto sulle intenzioni della storia ci dà solo l'illusione di capirla la storia e la società non strisciano saltano passano da una frattura all'altra con qualche vibrazione nel mezzo ciò nonostante a noi e agli storici piace credere in una progressione continua che procede per piccoli incrementi in quel periodo fui colpito da un pensiero che non mi ha mai più lasciato noi seri umani non siamo altro che una grandiosa macchina fatta per guardare all'indietro e siamo bravissimi a ingannare noi stessi ogni anno che passa mi convinco sempre più di questa distorsione caro diario della storia che va all'indietro gli eventi si presentano a noi in modo distorto pensiamo alla natura delle informazioni dei milioni forse miliardi di piccoli fatti che avvengono prima di un evento pochissimi risultano importanti a posteriori per comprendere ciò che è successo dato che la nostra memoria è limitata e filtrata tendiamo a ricordare i dati che in seguito corrispondano ai fatti a meno di non filtrare come il protagonista del racconto di Charles Louis Borges Funes o della memoria che non dimentica mai niente ed è condannato a vivere con un fardello crescente di informazioni non elaborate e non vive a lungo il mio primo incontro con la distorsione retrospettiva avvenne nel modo seguente da bambino ero stato un lettore vorace ma irregolare trascorsi però la prima fase della guerra in un semi interrato dedicandomi anima e corpo alla lettura dei testi più svariati la scuola era chiusa e fuori cadevano i colpi di mortali è terribilmente noioso stare in un semi interrato all'inizio la mia preoccupazione era combattere la noia e decidere che cosa leggere benoit benoit maldenbrot che visse un'esperienza simile alla stessa età ma quasi 40 anni prima ricorda il suo periodo di guerra come una serie di lunghi momenti di noia dolorosa intervallati da brevi momenti di paura estrema anche se obbligati a leggere per mancanza di alternative non è divertente come farlo di propria volontà volevo diventare un filosofo lo voglio ancora quindi pensai di dover fare un investimento forzandomi a studiare idee altrui le circostanze mi spinsero a studiare i resoconti generali e teorici delle guerre e dei conflitti nel tentativo di penetrare i segreti della storia di capire come funziona la grande macchina che genera gli eventi stranamente il libro che mi influenzò di più non era stato scritto da un pensatore ma da un giornalista diario di Berlino 1934-1941 di William Scheurer l'autore era un corrispondente radiofonico che era diventato famoso grazie alla sua storia del terzo Reich pensai che la forma del diario offriva una prospettiva insolita avevo già letto opere o commenti alle opere di Hegel Marx Toynbee Aaron e Fitch sulla filosofia della storia e le sue caratteristiche e credevo di avere una vaga idea della nozione del dialettica per quanto mi era possibile comprendere di quelle teorie non capivo molto solo che la storia segue una logica che le cose si sviluppano attraverso la contraddizione o gli opposti e che in tal modo il genere umano si eleva a forme più alte di società erano teorie molto simili a quelle che sentivo enunciare sulla guerra in Libano ancora oggi stupisco coloro che mi pongono la ridicola domanda su quali libri abbiano formato il mio pensiero rispondendo che quel libro mi ha insegnato moltissimo anche se involontariamente sulla filosofia e sulla teoria della storia e come vedremo anche sulla scienza visto che grazie a esso ho appreso la differenza tra processi in avanti e all'indietro in che modo quel diario cercava di descrivere gli eventi mentre accadevano non dopo ero rinchiuso in un seminterrato e potevo sentire la storia che si svolgeva di sopra di me il rumore dei mortali mi teniva svegli tutta la notte ero un adolescente che andava ai funerali dei suoi compagni vivevo uno svolgimento non teorico della storia e leggevo di un uomo che evidentemente osservava la storia mentre si svolgeva mi sforzavo di produrre mentalmente una rappresentazione quasi cinematografica del futuro e capivo che non era così facile mi rendevo conto che se avessi cominciato a descrivere quegli eventi in seguito essi sarebbero stati più storici c'era una differenza tra il prima e il dopo il diario si presentava come se fosse stato scritto senza che Schiller sapesse quello che sarebbe accaduto in un momento in cui le informazioni disponibili non erano ancora corrotte da esiti successivi alcuni commenti erano molto illuminanti in particolare quelli riguardanti la convinzione dei francesi che Hitler fosse un fenomeno transitorio un abbaglio che spiegava la loro mancanza di preparazione e la loro rapida resa nessuno poteva immaginare la portata della devastazione finale la nostra memoria è profondamente instabile ma un diario fornisce una serie indelebili di fatti registrati in modo più o meno immediato ci consente quindi di fissare una percezione non filtrata e di studiare successivamente gli eventi nel loro contesto nel descrivere gli eventi l'importante è il metodo che si utilizza non la sua esecuzione è probabile che Scherer e i redattori che curarono il suo libro abbiano imbrogato un po' dal momento che il volume fu pubblicato nel 1941 e che a quanto si dice il fine delle case editrici è vendere libri al pubblico non fornire descrizioni fedeli della mentalità dell'autore prive di distorsioni retrospettive per imbrogliare intendo eliminare al momento della pubblicazione elementi che non risultavano rilevanti rispetto a ciò che era accaduto in seguito mettendo così in rilievo quelli che potevano interessare il pubblico in effetti la revisione di un testo può creare molte distorsioni in particolare se all'autore viene assegnato quello che viene definito un bravo redattore e tuttavia il libro di Scherer mi fece intuire il funzionamento della storia verrebbe da pensare che alla vigilia della seconda guerra mondiale la gente avesse un vago sentore del fatto che stava per accadere qualcosa di importante ma non è così lo storico Neil Ferguson ha dimostrato che a dispetto di tutte le ricostruzioni del periodo che precedette la grande guerra che descrivono tensioni crescenti e crisi sempre più gravi il conflitto giunse inaspettato solo in seguito venne considerato inevitabile dagli storici retrospettivi per spiegare la sua tesi Ferguson utilizza un intelligente argomento empirico osservando i prezzi delle obbligazioni imperiali che di solito comprendono le previsioni degli investitori sulle necessità finanziarie del governo e sul declino dovuto ai conflitti visto che le guerre causano gravi deficit tali prezzi non riflettevano le previsioni sulla guerra il suo studio dimostra che i prezzi possono fornire una buona comprensione della storia il diario di Scherer si rivelò un corso di formazione sulle dinamiche dell'incertezza volevo diventare un filosofo ma non sapevo che cosa facessero per vivere i filosofi professionisti questa idea mi spinse verso l'avventura o meglio verso la pratica avventurosa dell'incertezza e verso la ricerca matematica e scientifica istruzioni in un taxi introdurrò il terzo elemento della triade ossia la maledizione dell'istruzione nel modo seguente osservavo attentamente mio nonno che era ministro della difesa e che in seguito fu ministro dell'interno e vice primo ministro all'inizio della guerra prima che le sue fortune politiche declinassero nonostante la sua posizione mio nonno non aveva idea di quello che stava per accadere più di quanto l'avesse il suo autista Mikhail ma a differenza di mio nonno Mikhail era solito commentare gli eventi dicendo Dio solo lo sa trasferendo più in alto il compito della comprensione notai che rispetto ai tassisti le persone intelligenti e istruite non presentavano una maggiore capacità di fare previsioni ma c'era una differenza sostanziale i tassisti non ritenevano di comprendere la situazione quanto le persone istruite non erano esperti e lo sapevano nessuno sapeva niente ma i pensatori di ceti colti erano convinti di sapere più degli altri perché facevano parte di un elite e se si fa parte di un elite si sa automaticamente più di coloro che non ne fanno parte non solo la conoscenza ma anche le informazioni possono essere di dubbio valore durante la guerra constatai che quasi tutti erano a conoscenza degli eventi nei minimi dettagli i giornali erano talmente simili che più si leggeva e meno informazioni si ottenevano eppure la gente era talmente impaziente di conoscere i fatti da leggere qualsiasi documento stampato e ascoltare tutte le stazioni radio come se il notiziero successivo potesse rivelare la grande risposta le persone divennero enciclopedia di informazioni su chi aveva incontrato chi e quale politico aveva detto una cosa all'altro politico e anche con quale tono di voce è stato più amichevole del solido ma inutilmente raggruppamenti durante la guerra del libano notai che i giornalisti tendevano a raggrupparsi non necessariamente intorno alle stesse opinioni ma spesso intorno al stesso quadro analitico assegnavano la medesima importanza alle medesime circostanze e dividevano la realtà nelle stesse categorie un'altra manifestazione della platonicità del desiderio di dividere la realtà in forme ben definite quello che Robert Fisk chiama giornalismo d'albergo aumentò ulteriormente il contagio mentale mentre per il giornalismo precedente il libano faceva parte del levante ossia del mediterraneo orientale all'improvviso entrò a far parte del medio oriente come se qualcuno l'avesse trasportato più vicino alle sabbie dell'Arabia Saudita l'isola di Cipro che si trova a circa 100 km dal mio villaggio nel Libano settentrionale e aveva cibo chiese e usi quasi identici entrò improvvisamente a far parte dell'Europa naturalmente la gente di entrambi le parti ne fu condizionata se in un passato si distingueva tra mediterraneo e non mediterraneo ossia tra l'olio d'oliva e il burro negli anni 70 si iniziò improvvisamente a parlare di Europa e non Europa e siccome l'islam si trova nel mezzo non si sapeva dove collocare i cristiani o gli ebrei di lingua araba categorizzare è necessario per esseri umani ma diventa patologico se le categorie sono considerate fisse e impediscono di prendere in considerazione l'indeterminatezza dei confini o la possibilità di modificarli il problema era il contagio se si fossero presi 100 giornalisti indipendenti capaci di osservare i fattori autonomamente gli uni dagli altri si sarebbero ottenute 100 opinioni diverse ma i giornalisti dell'epoca marciavano all'unisono e ciò riluceva notevolmente la gamma delle opinioni i commentatori convergevano sulle stesse opinioni e individuavano le stesse cause per esempio lasciando per un attimo da parte il Libano tutti i giornalisti oggi parlano dei ruggenti anni 80 dando per certo che quel decennio possedesse un carattere particolare e durante la bolla di internet alla fine degli anni 90 tutti i giornalisti utilizzavano gli stessi indicatori assurdi per spiegare le qualità di aziende che tutti volevano ma che erano prive di valore nel capitolo 10 esamineremo alcuni intelligenti test quantitativi utilizzati per dimostrare tali raggruppamenti essi mostrano che in molti argomenti alla distanza tra le opinioni è notevolmente inferiore rispetto a quella che vi è tra la media delle opinioni e la verità per capire che cosa intendo quando parlo di arbitrarietà delle categorie consideriamo la situazione della politica polarizzata la prossima volta che un marziano arriva sulla terra provate a spiegargli perché coloro che sono a favore dell'eliminazione del feto dall'utero di una donna si oppongono alla pena capitale oppure perché quelli che accettano l'aborto sono favorevoli a una tassazione elevata ma contrari a un forte potere militare perché coloro che preferiscono la libertà sessuale devono opporsi alla libertà economica individuale notai l'assurdità del raggruppamento fin da giovane per ironia della sorte nella guerra del libano i cristiani divennero difensori del libero mercato e del sistema capitalistico mentre gli islamisti divennero socialisti e ottennero il supporto dei regimi comunisti la Pravda l'organo del regime sovietico li definiva combattenti contro l'oppressione anche se più tardi quando la Russia invase l'Afghanistan furono gli americani ad allearsi con Bin Laden e i suoi compagni musulmani il modo migliore per dimostrare la natura arbitraria delle categorie e l'effetto contagioso che producono è ricordare la frequenza con cui i raggruppamenti si capovolgono l'attuale alleanza tra i fondamentalisti cristiani e la lobby israeliana sarebbe sembrata sicuramente strana a un intellettuale del XIX secolo i cristiani allora erano solitamente antisemiti e i musulmani che non amavano i cristiani proteggevano gli ebrei i libertari erano solitamente di sinistra essendo un probabilista ciò che mi interessa è che alcuni eventi casuali portino due gruppi che inizialmente supportano cause diverse ad allearsi facendo sì che le due cause si fondano e si unifichino fino alla sorpresa della separazione la categorizzazione causa sempre una riduzione della complessità reale è una manifestazione del generatore dei cigni neri dell'incrollabile platonicità che ho descritto nel prologo qualsiasi riduzione del mondo che ci circonda può avere conseguenze esplosive poiché elimina alcune fonti di incertezza e ci impedisce di capire come è strutturata la realtà per esempio si può giungere a credere che l'islam radicale e i suoi valori siano un alleato nella lotta contro il comunismo e quindi incentivare il loro sviluppo finché non arrivano due aerei nel centro di Manhattan pochi anni dopo l'inizio della guerra del Libano quando avevo 22 anni e frequentavo la Wharton School fu colpito dall'idea dei mercati efficienti secondo la quale non c'è modo di trarre profitto dalla compravendita di titoli e azioni in quanto tali strumenti incorporano automaticamente tutte le informazioni disponibili l'informazione pubblica può quindi essere inutile soprattutto per un uomo d'affari poiché i prezzi possono già contenere tutte le informazioni e notizie condivise con milioni di persone non danno alcun vantaggio è probabile che una o più persone tra le centinaia di milioni che hanno letto l'informazione abbia già comprato le azioni facendone quindi aumentare il prezzo a quel punto smesi completamente di leggere i giornali e di guardare la televisione il che mi permise di avere molto più tempo a disposizione diciamo un'ora o più al giorno ossia il tempo necessario per leggere un centinaio di libri in più all'anno e dopo un paio di anni ancora di più questo tuttavia non è l'unico argomento adotto nel presente libro contro la lettura dei giornali come vedremo si ottengono altri benefici se si evita la tossicità dell'informazione all'inizio questa fu per me una buona scusa per non dovermi tenere informato sui minuzzi del mondo degli affari un alibi perfetto dal momento che non trovavo niente di interessante nei dettagli di quel mondo che è inelegante monotono pomposo avido per niente intellettuale egoista e noioso dov'è lo spettacolo non riesco ancora a capire come un uomo che vuole diventare filosofo o filosofo della storia possa finire a studiare economia e in più alla Wharton School lì compresi che un politico insignificante di un piccolo antico paese e il suo autista filosofo Mikhail non erano gli unici a non capire come stavano le cose dopo tutto è normale che gli abitanti dei piccoli paesi non sappiano ma in una delle più prestigiose scuole di economia del mondo nel paese più potente della storia era possibile che anche i dirigenti di alcune aziende importanti che venivano a descriverle le loro attività non sapessero come stavano le cose anzi dal mio punto di vista non era una possibilità ma una certezza mi sentivo addosso il peso dell'arroganza epistemica della razza umana capì allora che il punto di forza del sistema del libero mercato è il fatto che i dirigenti delle imprese non sono tenuti a sapere come stanno le cose divenne un'ossessione fu quel punto che iniziai a prendere coscienza del tema che mi interessava l'evento rilevante altamente improbabile non erano solo i dirigenti aziendali ben vestiti e pieni di testosterone a essere ingannati dalle concentrazioni di fortuna ma anche persone di grande cultura questa consapevolezza trasformò il mio cigno nero da un problema di fortuna o sfortuna personale negli affari in un problema epistemologico e scientifico non solo sono convinto che alcuni risultati scientifici siano inutili nella vita reale perché sottovalutano l'impatto dell'altamente improbabile o ci portano a ignorarlo ma anche che molti di tali risultati possono addirittura generare cigni neri non si tratta di semplici errori tassonomici di quelli che provocano la bocciatura di un esame di ornitologia iniziai a vedere le conseguenze di tal idea 4 kg dopo 4 anni e mezzo dopo essere uscito dalla Wharton e con 4 kg in più il 19 ottobre 1987 stavo tornando a casa nell'upper east side dalla sede della banca di investimenti Credit Swiss First Boston di Midtown Manhattan dove lavoravo camminavo lentamente ed ero in uno stato confusionale quel giorno era accaduto un evento finanziario drammatico il più grande crollo del mercato azionario della storia recente fu ancora più drammatico poiché avvenne in un periodo in cui eravamo convinti di essere diventati abbastanza sofisticati grazie a tutti gli economisti platonizzati dalla parlantina intelligente con le loro equazioni fasulle basate sulla curva campana da evitare o perlomeno da riuscire a prevedere e controllare le grandi scosse il crollo non era neanche dovuto a una notizia particolare il verificarsi di quell'evento era inimmaginabile il giorno prima se ne avessi prospettato la possibilità mi avrebbero dato del pazzo aveva tutti i requisiti del cigno nero ma all'epoca non conosceva ancora questa espressione in Park Avenue incontrai un collega Demetrius quando iniziamo a parlare una donna in preda all'ansia abbandonando le sue inibizioni si intromisse nella conversazione ehi voi due sapete che cosa sta succedendo la gente su marciapiede era sbalordita poco prima avevo visto alcuni adulti si inghiozzare in silenzio nella trading room della First Boston avevo passato l'intera giornata nell'epicentro degli eventi con persone in preda al panico che correvano come conigli davanti ai fari di un veicolo quando arriva a casa mi chiamò mio cugino Alexis per dirmi che il suo vicino si era suicidato gettandosi dalla finestra io non mi sentivo neanche strano era come in Libano ma con una differenza avendo vissuto entrambe le situazioni mi colpì il fatto che un disastro finanziario potesse demoralizzare più di una guerra basti pensare che i problemi finanziari e le conseguenti umilazioni possono portare a suicidio mentre le guerre in genere no temevo una vittoria di Pirro avevo avuto ragione ma temevo di averne avuta troppa e di veder crollare il sistema non volevo aver così tanta ragione non dimenticherò mai il povero Jimmy P che mentre vedeva il proprio valore patrimoniale andarsene in fumo continuava a implorare tra il sedio e il faceto il prezzo sullo schermo affinché non calasse ulteriormente capì in quell'occasione che non me ne fregava niente dei soldi provai la sensazione più strana della mia vita un assordante suono di tromba che mi annunciava che avevo ragione così forte da farmi vibrare le ossa non avevo mai provato una cosa del genere e non riuscirò mai a spiegarla a coloro che non l'hanno vissuta fu una sensazione fisica forse un misto di gioia orgoglio e terrore sentivo che avevo avuto ragione perché? nel primo o nel secondo anno dopo il mio arrivo alla Wharton avevo sviluppato una capacità particolare ma strana scommettere su eventi rari e inattesi quelli che si trovavano nella piega platonica considerati inconcepibili dagli esperti platonici la piega platonica lo ricordo è il luogo in cui la nostra rappresentazione della realtà cessa di essere applicabile senza che noi lo sappiamo ben presto mi dedicai alla professione della finanza quantitativa divenne simultaneamente un quant e un trader un quant è una specie di scienziato industriale che applica modelli matematici dell'incertezza a dati finanziari o socio-economici e a compresi strumenti finanziari solo che io ero esattamente il contrario di un quant studiavo il flusso e i limiti di quei modelli e cercavo la piega platonica in cui non funzionano più mi dedicai anche al trading speculativo e non solo a parole il che era raro per i quants dal momento che il loro ruolo era quello di analizzare e non di prendere decisioni e correre dei rischi ero convinto di essere totalmente incompetente nel prevedere i prezzi del mercato ma che anche gli altri in generale lo fossero solo che non lo sapevano o non sapevano di correre dei grandi rischi la maggior parte dei trader raccoglieva monetine davanti a un rullo compressore esponendosi al rischio di un evento raro dall'impatto elevato eppure dormivano come bambini del tutto ignari il mio era l'unico lavoro possibile per una persona che pensava di odiare il rischio e di essere consapevole dei pericoli e di essere profondamente ignorante inoltre il bagaglio tecnico necessario per essere un quant un misto di matematica applicata ingegneria e statistica oltre all'immersione della pratica si rivelò molto utile per qualcuno che desiderava diventare un filosofo mi specializzai in complessi strumenti finanziari chiamati derivati che richiedono una matematica avanzata ma in cui l'utilizzo di una matematica sbagliata porta errori maternali l'argomento era abbastanza nuovo e affascinante da spingermi a conseguire un dottorato non fui in grado di costruirmi una carriera solo scommettendo sui cini neri non c'erano abbastanza possibilità ma riuscii a evitarli proteggendo il mio portafoglio da partite consistenti al fine di eliminare la dipendenza dal caso quindi mi concentrai sulle inefficienze tecniche tra gli strumenti complessi e sfruttai questa opportunità senza spormi all'evento raro prima che tali inefficienze sparissero grazie all'avanzamento tecnologico dei miei concorrenti più avanti scopri un business più facile e meno minacciato dal caso che consiste nel proteggere con una sorta di assicurazione i grandi portafogli dal cigno nero in primo luogo se si passano vent'anni a sottoporre i dati a un enorme lavoro empirico e si corrono rischi basandosi su tali studi si riesce facilmente a individuare nella struttura del mondo elementi che i pensatori platonizzati non riescono a scorgere perché sono stati sottoposti a troppi lavaggi del cervello o perché sono troppo minacciati in secondo luogo l'esperienza mi permise di diventare formale e sistematico nel mio modo di pensare invece di indugiare nell'aneddotico infine sia la filosofia della storia sia l'epistemologia la filosofia della conoscenza sembravano inseparabili dallo studio empirico di serie temporali di dati ossia successione di numeri nel tempo una specie di documento storico composto da numeri invece che da parole e i numeri sono facilmente elaborabili dal computer studiare dati storici fa capire che la storia va avanti non indietro e che è più confusa di quanto non sembri nelle ricostruzioni narrative l'epistemologia la filosofia della storia e la statistica hanno lo scopo di capire la verità di indagare i meccanismi che le generano e di separare nei dati storici la regolarità da ciò che è casuale tutte e tre mettono in discussione ciò che sappiamo ma per così dire abitano in edifici diversi la parolaccia dell'indipendenza quella notte il 19 ottobre 1987 dormi per 12 ore consecutive era difficile spiegare ai miei amici con tutti colpiti in qualche modo dal crollo la soddisfazione che provavo per aver avuto ragione a quel tempo le gratifiche non erano alte come quelle di oggi ma se la società per cui lavoravo la First Boston e il sistema finanziario fossero sopravvissuti fino alla fine dell'anno avrei ricevuto l'equivalente di una sostanziosa borsa di studio una somma del genere di solito viene chiamata fuck you money un'espressione che nonostante la volgarità indica una quantità di denaro tale da permettervi di vivere come gentiluomini vittoriani liberi da qualsiasi schiavitù è uno scudo psicologico il capitale non è così cospicuo da farvi diventare ricchi e viziati ma è abbastanza consistente da permettervi di scegliere una nuova occupazione senza tenere troppo in considerazione il tornaconto economico vi risparmia l'obbligo di prostituire la mente e vi libera da qualsiasi autorità esterna l'indipendenza è specifica per ogni persona mi ha sempre colpito l'elevato numero di situazioni in cui un guadagno incredibile conduce a un maggiore servilismo in quanto le persone diventano ancora più dipendenti dai loro clienti e dai loro datori di lavoro e vogliono fare sempre più soldi anche se in fin dei conti quella somma non era così considerevole mi curò letteralmente da tutte le ambizioni finanziarie mi faceva sentire in colpa ogni volta che sacrificavo la ricerca della ricchezza materiale tempo che avrei potuto dedicare allo studio si noti che la forza dell'espressione fuck you è legata all'eccitante capacità di pronunciarla prima di mettere giù il telefono in quel periodo capitava molto spesso che i trader rompessero i telefoni quando perdevano soldi alcuni distruggevano anche sedie tavoli e tutto ciò che poteva far rumore una volta a Chicago un trader cercò di strangolarmi e ci vollero quattro addetti alla sicurezza per togliermelo di dosso era furioso perché mi trovavo in quello che secondo lui era il suo territorio chi vorrebbe mai abbandonare un ambiente simile paragonato a quello di una grigia mensa universitaria in cui i professori dotati di buone maniere discutono l'ultimo intrigo del dipartimento continuai quindi a occuparmi di finanza quantitativa e borsa come adesso però mi organizzai in modo tale da lavorare poco ma intensamente e divertendomi concentrandomi solo sugli aspetti più tecnici non partecipando mai a riunioni di lavoro evitando la compagnia dei vincenti e di uomini in giacca e cravatta che non leggono libri e prendendomi un anno sabbatico ogni tre per colmare la lacune della mia cultura filosofica e scientifica per distillare lentamente la mia unica idea volevo diventare un flaneux un mediatore professionista volevo stare seduto ai tavolini dei bar oziare stare lontano da scrivanie e strutture organizzative dormire per tutto il tempo di cui avevo bisogno leggere voracemente e non dare spiegazioni a nessuno volevo essere lasciato in pace per costruire poco a poco un sistema di pensiero basato sull'idea del cigno nero filosofo da Limousine la guerra libanese e il crollo del 1987 sembravano fenomeni identici mi resi conto che quasi tutti avevano una macchia cieca mentale che impediva loro di riconoscere il ruolo di tali eventi sembrava che non fossero in grado di vedere quei mammut o che se ne scordassero in fretta la risposta era davanti ai miei occhi si trattava di una cecità psicologica forse anche biologica il problema non stava nella natura degli eventi ma nel modo in cui venivano percepiti termino questa introduzione autobiografica con la seguente storia non avevo una specializzazione definita al di là del mio lavoro quotidiano né mi interessava averla quando le feste mi chiedevano che cosa facevo per vivere ero tentato di rispondere sono un empirista scettico e un lettore franeur sto approfondendo un'idea ma semplificavo le cose dicendo che ero un autista di Limousine una volta su un volo transatlantico mi misero in prima classe vicino al signore autorevole vestito in modo costoso e pieno di gioielli che mangiava continuamente noccioline forse stava facendo una dieta con basso apporto di carboidrati insisteva a bere solo acqua avian e leggeva l'edizione europea del Wall Street Journal quando si accorse che stavo leggendo un libro in francese del filosofo e sociologo Pierre Bourdineau che per ironia della sorte parlava dei segni di distinzione sociale cercò a più riprese di avviare una conversazione in un francese mediocre le dissi in inglese che ero un'autista di limousine e mi fantai di guidare solo auto molto aristocratiche per il resto del volo regnò un silenzio di tomba ma nonostante l'attenzione riuscì a leggere in pace in pace